E' stata celebrata nella giornata di ieri la cerimonia per il ventennale del riconoscimento come patrimonio UNESCO dei siti di Pestum, Belia e Certosa di Padula. All'evento, tenutosi presso la fondazione Alario a Marina di Ascea, hanno partecipato figure istituzionale, i promotori della candidatura e gli studenti. Presenti anche il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e il sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali con delega ai siti UNESCO Lucia Borgonzoni. Presidente, lei prima ha parlato di giovani, come possiamo fare ad avvicinarli a realtà così importanti al fine di renderli proprio partecipi, di risultati così? Perché dobbiamo far capire ai giovani che opportunità ci sono realmente nel nostro territorio, dobbiamo far capire ai giovani e dobbiamo far conoscere ai giovani il territorio. Io dico sempre non si può amare un qualcosa o un qualcuno se prima non lo si conosce. La verità è questa, la vera grande sfida che abbiamo è fare in modo che i nostri ragazzi, le nostre scuole, i nostri giovani possano conoscere il territorio nel quale vivono, perché solo così possiamo fare in modo che lo possano amare e quindi valorizzare e quindi tutelare. Ecco, qui c'è la grande sfida. Io lo dico sempre, ogni anno mando una lettera ai presi delle nostre scuole, fate con un appello, più che ormai una lettera, fate conoscere il territorio nel quale viviamo. Io rispetto, chiaramente sono una persona che ama viaggiare, quindi ci mancherebbe se non dobbiamo far conoscere i nostri ragazzi, i luoghi anche lontani, in altre regioni, in altri paesi. Però io dico, se non conoscono Pestum, se non conoscono la Certosa di Padula, se non conoscono Velia, che poi vanno a fare le gire per far conoscere altri luoghi, è una sconfitta, è una sconfitta da parte di tutti quanti noi, perché iniziamo a lavorare nel fargli conoscere il territorio più importante che noi abbiamo qui da noi, nel Parco Nazionale del Cilento Valorano degli Alburni, perché non possiamo pretendere che i giovani possano amare il territorio, valorizzare il territorio, rispettare il territorio se non glielo facciamo conoscere. Tocca a noi oggi con grande determinazione e anche con una visione del futuro fare in modo che i ragazzi possano conoscerlo e questa diventa l'opportunità, l'opportunità diventa o meglio la conoscenza è la prima opportunità. Poi è chiaro, per farla diventare anche opportunità lavorativa, io dico, noi viviamo in un patrimonio di una ricchezza straordinaria, da un punto di vista culturale, paesaggistico, ambientale, tante sono le risorse, non è possibile che in qualsiasi altro posto del mondo, se prendiamo una sola delle risorse che c'è qui nel Parco Nazionale del Cilento Valorano degli Alburni diventa un'opportunità per i ragazzi, qui da noi diventa un problema, l'area protetta è un problema, allora dobbiamo scrollarci da questo luogo comune sbagliato perché il parco non è semplicemente un virgolo, il parco deve essere un'opportunità perché in qualsiasi posto del mondo il patrimonio di ricchezza che c'è su un territorio non deve essere un limite ma deve essere un'occasione, ecco questa è la grande sfida che oggi abbiamo noi come parco. La scuola può essere il punto di partenza per questo? È senza ombra di dubbio il punto di partenza, io oggi punto su quelle generazioni, non punto più sulle generazioni, è l'esempio banale che faccio ma che rende bene l'idea e se io vado vicino a una persona anche della mia generazione o anche più grande che magari prende e fa un gesto buttando una carta a terra e gli dico, gli faccio tutte le morali del mondo di guarda quella carta a terra non va buttata, il giorno dopo la ributta nello stesso modo, se va suo nipote o suo figlio nel momento in cui buttano la carta a terra e gli dicono non buttiamo questa carta a terra, mettiamola nei cestini, io sono certo che il secondo giorno ci pensa dieci volte prima di buttarla, ecco perché noi la grande attenzione che oggi dobbiamo rivolgere ai più giovani, ai nostri figli, va anche in questa direzione, cercare di far capire e di lanciare quei messaggi che possono essere utili anche per quelle generazioni che magari hanno un'idea diversa di territorio, che magari hanno anche un'idea diversa delle opportunità legate al territorio. Sicuramente tutelato sì, però va promosso e bisogna promuoverlo al meglio, ci sono tanti, troppi siti Unesco e non solo che non sono affatto conosciuti o poco conosciuti, se ne parla e se ne conosce solamente una parte, su questo faremo un grande lavoro, ci stiamo impegnando, dobbiamo comunque riuscire anche a metterli tutti in un sistema dove le persone che hanno una qualunque disabilità possano accedervi, possano conoscerli, possano in qualche modo vederli, io questo l'avevo già detto durante la mostra di cinema di Venezia, possa che avremo fatto un progetto per chi ha disabilità motori, iniziando da alcuni siti Unesco e poi la grande cosa è che dobbiamo questo patrimonio, che dobbiamo tutelare.